gentili telespettatori buona giornata pfizer prepara la super pillola universale contro tutti i coronavirus la madre di tutte le pillole contro tutti i coronavirus ci sta lavorando già da un bel po dopo la pillola pax lovid arrivata in italia da pochi giorni la casa farmaceutica ammaracana ha in mente di lanciare la super pillola la madre di tutte le pillole i vertici delle azze dell'azienda lo hanno svelato agli investitori svelato agli investitori quotati quotati in borsa vabbè comunque svelato agli investitori in occasione della presentazione dell'ultima trimestrale sui conto del 2021 michel dolsten capo scientifico della multinazionale spiega che si tratterà di un antivirale orale sars cov 2 di nuova generazione l'obiettivo è ottenere un'elevata efficacia clinica e proprietà pan coronavirus un siero in grado di combattere tutti i virus di questo tipo non solo il covi delle sue varianti quindi tutti i virus che hanno come ceppo il coronavirus con un profilo di sicurezza favorevole e contrastare la potenziale resistenza virale tutto ciò senza potenziale il critonavir un inibitore della proteasi che si trova anche nel paxlovide che a causa di svariate controindicazioni limita molto il possibile utilizzo della pillola già in commercio una prima fase in studio sull'uomo è prevista nella seconda metà dell'anno la super pillola la madre di tutte le pillole sarà solo l'ultima arma a disposizione per combattere il virus Pfizer in attesa dell'autorizzazione al vaccino nei bambini più piccoli da sei mesi a quattro anni la FDA l'organismo di controllo americano ha chiesto ulteriori dati alla casa farmaceutica un incontro è previsto il 15 di febbraio appare sempre più probabile che dopo le prime due dosi bisogna farne una terza distanza ravvicinata solo dopo due mesi e la definisce un'opzione optimale la casa farmaceutica perché i test hanno dimostrato una scarsa efficacia delle due dosi di vaccino tra chi ha due e quattro anni chi ha tra 6 e 11 anni con ogni probabilità saranno chiamati a fare il richiamo la terza dose e poi naturalmente si parla di fatturato la Pfizer è un'azienda privata che non prevede un calo del fatturato se nel 2021 ha incassato 81,3 miliardi di dollari di cui 42,2 solo dal vaccino comirnati il 2022 sarà ancora meglio pertanto possiamo dire che la casa farmaceutica ha raddoppiato il suo fatturato e il sogno di ogni direttore d'azienda raddoppiare il fatturato in un anno le previsioni sono d'oro la casa farmaceutica punta a fatturare tra i 98 e i 102 miliardi ricordatevi che quando un'azienda produce fa aumentare anche il pil del proprio paese dove c'è l'attività produttiva naturalmente se produce in altri paesi la storia del pil adesso non vi faccio la lezione dell'università però parliamo a grandi linee che se un'azienda prolifera fa bene anche allo stato di appartenenza sia proprio per il fatturato che potrebbe entrare nel pil diciamo così e poi l'assunzione di dipendenti ecco pertanto passare da 42,2 miliardi nel 2020 a puntare al 2022-23 a 102 miliardi vuol dire quasi triplicare quasi triplicare il fatturato per esempio da solo dalla pillola pax lovid gli introiti saranno di 32 miliardi solo per un anno gli azionisti che l'anno scorso hanno ricevuto dividendi per 8,7 miliardi di dollari possono dormire tranquilli il ceo albert bourla ha rassicurato gli investitori i nostri scienziati continuano a monitorare il virus sars cov 2 ritengono improbabile che venga completamente sradicato nel prossimo futuro cosa dice il capo della casa farmaceutica tranquilli tranquilli abbiamo fatto un sacco di soldi ma il virus non sparisce pertanto state tranquilli che continueremo a fatturare ma quello che vi sto dicendo io non è niente di scandalistico è solo una fotografia della realtà perché questa è un'azienda privata che fa degli utili quindi io vi sto raccontando come sta andando a questa azienda ma non c'è niente di strano è ecco ecco non c'è niente di strano le aziende private producono con l'obiettivo di far guadagnare i proprietari quindi non c'è niente di strano in quello che vi sto raccontando è solo giusto per la cronaca intanto il covid ha mostrato la capacità di mutare spesso rendendo difficile anticiparlo i dati sembrano mostrare che le infezioni naturali non portano al tipo di proiezione duratura necessaria per prevenire tutte le trasmissioni le mutazioni virali di conseguenza le persone possono essere rinfettate da ceppi uguali o diversi nel tempo gli azionisti festeggiano ci sono anche dei lavoratori a cui non va bene per esempio a catania dove feitzer ha annunciato 130 esuberi perché la casa farmaceutica produce anche a catania nonostante la pioggia di miliardi di dollari l'azienda non ha intenzione di ripensarci ieri il comune etneo ha sollecitato un vertice a roma per trovare una soluzione è necessario che quanto prima il governo nazionale in particolare il ministero dello sviluppo economico giorgetti ecco trovi una soluzione attivi un tavolo tecnico di confronto con le forze sindacali istituzionali l'azienda per fermare il surreale piano di feitzer di depotenziare il sito catanese ricorrendo persino a inaccettabili licenziamenti di personale proprio mentre la stessa impresa ha assunto un fruttuoso ruolo centrale nel mondo con la produzione di miliardi di vaccini però questo non vuol dire un cacchio nel senso non si può dire visto che tu guadagni tanto allora devi tenere anche strutture che non funziona così bisogna capire intanto a catania perché ci sono questi esuberi vogliono chiudere lo stabilimento non è produttivo non è non porta un reddito quindi non si può dire visto che tu stai guadagnando 40 miliardi in più allora non puoi licenziare le persone è così che le aziende poi cominciano ad andare male se ci sono dei rami aziendali che sono da tagliare vanno tagliati sono delle situazioni da correggere vanno corrette voi credete realmente che se feitzer non avesse problemi a catania pensare si mettesse a pensare di licenziare ovviamente no arrivederci a tutti e grazie